Viva le donne, le donne hanno dei misteri che noi uomini non scopriremo mai, ma anche noi uomini abbiamo un mistero che voi donne non scoprirete mai, anzi lo scoprirete solamente quando verrete a letto con noi. Il 99% degli uomini russa. E' una cosa che io mi porto da bambino, appartengo alla categoria, ne posso parlare. Pensate che quando sono nato, mi avevamo quando appartorito, non è che piangevo in che, in che, in che. Noi russavo. Al nido lì, i parenti, quando venivano dietro allo spazio, si mettevano le cuffie, sembrava il poligono. Mia mamma usava due pannolini, uno mi poteva in faccia e uno mi poteva su. Questo è un fatto che ci portiamo di famiglia. Pensate che ho scoperto che anche mio nonno russava. Pensate che mia nonna a un certo punto lo porto dal dottore, il dottore disse signora non vi preoccupate, è l'ucola che vibra. disse mia nonna a un rucola vibro, fa già l'ondrone, che ce l'ha già fa mangiacchis. Infatti, quando io muovi i miei primi passi e russavo, mia mamma non si voleva arrendere, assolutamente, mi porto anche le tal pediatra e il pediatra mi vide e disse signora non vi preoccupate, sono le tonsille. Poi quando crescerà, il secondo anno, avevo due anni, mi porto di nuovo dal pediatra e il pediatra disse signora non vi preoccupate, sono le adenoidi. Poi quando crescerà, avevo ormai tre anni, mi riporto dal pediatra, disse il dottore signora non vi preoccupate, poi quando crescerà, mi dice tutto ma quando crescerà cosa? L'ho portato ad un'altra parte perché io sono un pediatra, o medico ricreatore. Questa è una cosa che ho scoperto, ho scoperto che da noi in famiglia si russa tutti e in base anche al mestiere che si fa mio padre che russa proprio esageratamente perché fa il camionista, russa come camionista, l'accelerazione ha avuto in camion. mio zio che fa legname, russa come una segra elettrica, mio fratello che è barista, lavora in un bar, russa come una macchinetta e un caffè, ma ho capito mia zia che mestiere fa, russa su cori succhio. Diciamo che il problema, dobbiamo essere sinceri, il problema del russuare non è di chi ce l'ha, è di chi tiene a fianco. Parliamoci chiaro, tu magari di notte ti addormenti con la tua fidanzata, con la tua compagna, con la tua ragazza che lei si mette a cuccioletto con gli occhi da cerbietta a fianco a te, tranquilla, 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 con i suoi piedi in gelida a fianco a te e all'improvviso te la ritrovi di notte in mezzo a letto con gli occhi così pieni di sangue, che senti inizia a fare i trucchi, inizia a fare, poi non ce la faccio iniziata tu con le altre, muove, ti sbatte, tu ti alzi, vuoi fai gara? Ma stavo russando? No! Hai chiamato l'osservatorio Vesuviano registrato dal remoto, l'epicentro era a casa nostra! Ti fa sentire in colpa! E lei parte subito con l'interrogazione dei metodi, fa ma hai messo i cerotti? Sì, l'ho messo i cerotti, ma li ho trovati a terra che gridavano pietà, non ce la facevano più. E tu inizia a dire guarda, forse cara saranno stati le pappardelle a cinghiale, e sì che l'ero cinghiale che volevo asci. Ti fa sentire in colpa, allora tu in un certo punto dici guarda cara, io ho provato a dormire a pancia sotto, ho provato a dormire a pancia all'aria, ho provato a dormire di lato a destra, ho provato a dormire di lato a sinistra, e ti guarda e fa, mi hai provato a dormire a casa di mamma! No! E vai, vai!